Il Consiglio regionale ha approvato la legge per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi. Dal 2022 7 milioni e 800 mila euro verranno così riversati su riqualificazioni edili e urbanistiche destinate ad apparecchiare progetti per un turismo diffuso e sostenibile. Lo abbiamo sempre detto, è necessario tornare a insistere e a impegnare risorse e tutti i nostri sforzi a favore delle aree interne e di quanto di più straordinario questa regione ha, cioè quel patrimonio immenso fatto di borghi, colline e centri storici. Noi vogliamo quindi che il turismo ma anche l'economia marchigiana del prossimo futuro si concentri su questo patrimonio. Dopo una revisione dell'emendamento che ha visto la soppressione del limite dei 15 mila abitanti la legge è stata approvata all'unanimità da maggioranza e minoranza. Noi condividevamo fin da subito l'obiettivo di valorizzare dal punto di vista socio-economico i borghi storici, la loro promozione e sostanzialmente quindi su questi obiettivi ci ritrovavamo. Avevamo proposto alcune modifiche al testo della proposta di legge. La gran parte di queste modifiche, degli emendamenti sono stati accolti. Rimane una legge che ha uno scarso finanziamento complessivo ma ci riteniamo soddisfatti. Per questo abbiamo votato a favore dopo un buon lavoro svolto sia in Commissione che in Aura. L'approvazione all'unanimità silenzia dunque alcuni sospetti di penalizzazione alla provincia di Pesaro Urbino avanzati nei giorni scorsi da parte della minoranza. Non esiste nessun tipo di penalizzazione. È già la seconda o terza volta che sentiamo sempre uscire con toni roboanti e sinceramente incomprensibili l'opposizione sostenendo che con un provvedimento o con l'altro viene danneggiata e penalizzata Pesaro e la provincia di Pesaro. Tutto ciò non è assolutamente vero perché la legge sui borghi è una legge fondamentale di questa giunta che caratterizza l'attività di questa giunta del Presidente Acquaroli. C'è stato un testo che è uscito dalla giunta che è andato in Commissione come avviene con tutte le leggi. È andato in Commissione, in Commissione l'hanno analizzato. Hanno analizzato il problema del vincolo del limite dei 15.000 abitanti. Si era deciso comunque sia già dalla Commissione di provvedere a rimuovere questo comma che prevedeva praticamente questo limite. Si cerca sempre di creare dei problemi, delle tensioni su cose che non esistono. Quindi bene così verrà provata senza nessun limite. Nessuno ha intenzione di penalizzare Pesaro, la provincia di Pesaro.